Via Libera all'opera di Daniel Libeskind sulla diga foranea di Como. Dalla conferenza dei servizi che si è aperta questa mattina a menaggio, è arrivato il parere favorevole dei tecnici. In primis quello della soprintendenza che ha inviato una lettera. Non c'è un problema paesaggistico, ha chiarito l'architetto Alberto Artioli. La valutazione era sull'impatto e sulla compatibilità. Non entriamo nel merito dell'opera. Sull'artisticità aggiunge, lascerei all'amministrazione comunale, l'opportunità di valutare con una commissione qualificata il da farsi. Infine abbiamo indicato, dice ancora il soprintendente, alcuni approfondimenti, ad esempio su come influiranno le luci sul paesaggio notturno. Via Libera di fatto ha The Life Electric il progetto dedicato ad Alessandro Volta che l'Archistar ha deciso di donare alla città in vista di Expo, la cui realizzazione è affidata all'associazione Amici di Como. Ci atterremo alle prescrizioni della soprintendenza, ha spiegato l'assessore alla pianificazione urbanistica del comune di Como Lorenzo Spallino, quanto all'opportunità di valutare l'opera anche attraverso una commissione qualificata, non la riteniamo praticabile. La compatibilità paesaggistica del monumento e la sua collocazione sono state valutate e approvate dalla conferenza. La qualità artistica e il grande valore dell'autore, aggiunge, non sono per noi in discussione. E siamo convinti che la città sia positivamente coinvolta in questa scelta. Sono soddisfatto, ha commentato infine il sindaco Mario Lucini, possiamo andare avanti e procedere. Per il 9 ottobre alle 17.30, intanto, in comune a Como, in sala Stemmi, è stato previsto un incontro pubblico di presentazione del manufatto. Apprendiamo con entusiasmo la decisione arrivata oggi, dice il coordinatore degli Amici di Como, Daniele Brunati. Ritengo sia per noi una bella soddisfazione a coronamento di quanto abbiamo fatto fino a questo momento. Con umiltà e impegno continueremo a lavorare in questa direzione, aggiunge, consapevoli che stiamo portando avanti un progetto importante. 16 metri e mezzo l'altezza complessiva, peso 11 tonnellate, due lame verticali reggono altrettante strutture esili e incurvate, il tutto ricoperto in fibra di carbonio. Queste le caratteristiche principali dell'opera di Libeskind che sorgerà in fondo alla diga foranea, che a sua volta sarà ingrandita, rimessa in asse e consolidata. Costo stimato per tutta l'operazione, 1.050.000 euro interamente coperto dagli sponsor. Intanto è online il sito internet dell'ifeelectric.it, all'interno del quale è possibile trovare e scaricare materiale sull'opera.